Siglata un'intesa tra Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano e Schneider Electric S.p.A., la multinazionale leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione. Un altro passo importante. Presidente Paolo Raschiatore. Sì, la missione dell'ITS è proprio quella di mettere assieme le esigenze e le possibilità tecnologiche e occupazionali delle aziende piccole, medie e grandi con le esigenze e la formazione degli studenti. Per questo l'ITS guarda non solo alle aziende utilizzatrici di tecnologie, ma anche alle aziende più valide in un panorama non solamente locale, ma nazionale ed internazionale, le aziende che sono all'avanguardia nei vari settori tecnologici. La Schneider Electric è sicuramente una di queste e noi siamo molto felici di poterla annoverare tra i nostri partner che assieme a noi concorreranno a realizzare e produrre degli studenti sempre più formati ed informati su queste nuove tecnologie che sono abilitanti per il nostro futuro produttivo. Presidente, ricordiamo anche l'occupabilità di questi studenti una volta terminato il corso dell'ITS. Praticamente questi studenti trovano tutti lavoro nel giro di poco tempo alla fine del loro corso di formazione. Anzi, molti di questi trovano lavoro nelle aziende nelle quali operano in stage, ma tutte sono sicuramente delle persone valide che trovano lavoro facilmente.